E cosa porta tutto questo? Lo sappiamo benissimo dove porta tutto questo, alla fine fine. Volete un piccolo assaggio di articoli che ho scaricato da internet poco prima di venire via? Ve li do anche subito, guarda. Psicologi e preghiere. Come tutti i giorni l'hanno, padre Mario si alza e tutti fanno il segno della croce. Sparecchiano, Felipe corre in cucina a vari piatti, è il suo turno. Poi tutti salgono in camera, iniziano le attività del pomeriggio, lettura, preghiera, computer, qualche lavoretto. Qualcuno ha appuntamento con Hilda, la psichiatra. Lui se gli altri hanno tra i 30 e i 40 anni, vestono magliette e jeans, sono di pelle olivastra, accenti del sud ma anche del lontano nord-est. D'accordo per passare una giornata con loro è stato chiaro, niente nomi veri, niente dettagli sul motivo della permanenza qui, in una casa parocchiale qualunque, in una cittadina qualunque del Brasile. E' un centro di ricovero per preti pedofili, per preti pederasti. E in Brasile la questione sta arrivando al noccio del pettine perché ormai si parla di 1700, per la chiesa cattolica 1700. Per cui si tratta tranquillamente di 2000-2500 preti che sono coinvolti nell'attività pederastica in Brasile. Confessioni shock, labate, sì ho abusato di 30 bambini. Questo non è in Brasile, questo è accaduto a Farneta, ad Arezzo. Un santo fuori, un orco dentro, due facce, una sola vergogna, quella per l'uomo e quella per la chiesa. Quando Pierangelo Bertagna ha abbassato gli occhi grandi e neri e la fronte alta e calva, neanche gli investigatori gli volevano credere. E' tutto vero, il bel fagor dei bambini, quell'omone della faccia grande e delle mani forti, era davanti a loro perché 30 ne ha raggirati, guadagnando un primato che la difesa semplificherà in molestie sessuali e l'accusa chiamerà violenze carnali. 30 ne ha confessati, tutta con la voce fonda e l'animo bifido. Il paese tace, sui volti della gente di Farneta sconcerto per un segreto pesantissimo che gravava nell'aria come un macigno. Quello era il loro parroco. C'è rabbia in quei volti, tanti genitori pronti a fidarsi di una catechesi senza sospetto e sollievo di chi è riuscito a scampare a un incubo grande. Tanti bambini potranno continuare a giocare con l'innocenza della loro età, ma sempre troppe le vittime che non dimenticheranno. Mamma, devo dirti una cosa, è cominciato tutto così in Val di China, con un bambino di appena 13 anni che ha provato a spiegare alla mamma quelle cose strane che faceva con Don Pierangelo, il sacerdote dell'abbazia di Farneta, il suo parroco vincendo da solo la vergogna. La mamma sconvolta è corso ai carabinieri alla ricerca di un'ingiustizia che potesse diventare conforto. Era l'11 luglio, quando la procura di Arezzo ha aperto il fascicolo affidando le indagini al PM a Retino e a Silvia Spena, disposte di intercettazioni telefoniche e ottenuto le prime conferme, pedofilia. Scattano gli arresti domiciliari. La chiesa corre ai ripari. Due settimane fa il vescovo di Arezzo, Gualtiero Bassetti, lo stesso che nel 2000 ha ordinato sacerdote Bertagna, decide di sospendere la Divinis e lo trasferisce in un eremo della Val di Chiana, a Retina, dove il pedofilo sconta il provvedimento deciso dal GIP, Gianni Fruganti, arresto per violenza sessuale nei confronti dei minori. La scorsa settimana la diocesi ha annunciato la sua sospensione e ha disposto di processo canonico che potrebbe togliersi qualsiasi titolo religioso. Di certo, la chiesa di Papa Ratzinger non interfererà nella vicenda con mano leggera. Nel frattempo inizia anche il via vai di molte famiglie del carabinieri del posto, tante troppe per denunciare un incubo terribile. Anche nostro figlio ha subito a strane attenzioni della batte, aiutateci. In quelle famiglie vivono bambini che non superano i 15 anni. Trenta di questi bimbi, otto, nove, undici anni, sono stati violentati da quell'abate, dalla barba lunga e gli occhiali da vista, un babbo natale buono. Così è tento i ragazzi del posto e attivo nei loro confronti. Ma anche così falso. Chi poteva immaginarlo? Don Pierangelo incantava con le parole e con quei modi pacati. Il suo carisma aveva affascinato e convinto tutti. Ma forse la solitudine passata nell'eremo lo ha costretto a riflettere, a guardarsi nell'animo con onestà. E dopo quando Pietro Bretagna, oggi 44 anni, era un missionario laico all'estero, vita di rinunce e sacrifici, dormivo sul pavimento e mangiavo solo verdura, ha raccontato gli inquirenti, ma tutte quelle previazioni non sono bastate a spegnere quegli istinti insani. Trenta ragazzi ho abusato. E di trenta ragazzini, bambini o adolescenti, fra gli otto e quindici anni. Un brivido di gelo e di rabbia la confessione continua. Quelle violenze sarebbero iniziate nella zona d'origine, in Lombardia. La Lombardia è il Bresciano. Ah, Don Bertagna è nato a Gardone, in Val Trompia, proprio in Val della Lega, è una delle valli tante esaltate della Lega, in provincia di Bergamo. Chissà quanta malsanità c'è là dentro. In provincia di Brescia, scusate. Dove lavorava come missionario laico. Poi proseguite al seminario di Arezzo, dove a trentanove anni era diventato sacerdote, fino all'abbazia di Farneta, a poca distanza da Cortona. In cui era stato nominato parroco. Violenze e molestie si intrecciano in un filo di orrore che percorre mezza Italia. Le indagini continuano, continua la ricerca delle conferme che puntualmente arrivano. In paese, invece, c'è solo voglia di dimenticare. Già, anziché voglia di giustizia, c'è voglia di dimenticare. La cosa più atroce di tutto questo non è il fatto che un prete cattolico abusi di bambini. Tutti i preti cattolici abusano di bambini. Tutti. Perché quantomeno li mettono in ginocchio e li costringono a pregare. Quanto meno. Ed è orrore ed è violenza gratuita. Ma quello che è orrore è questo. Neanche gli investigatori gli volevano credere. Dei poliziotti, dei carabinieri, degli investigatori non sanno che prioristicamente i preti stuprano bambini. Per dogma. Per imitazione di Cristo. Non lo sanno loro. E questa cosa che fa indignare, che fa incazzare, sono esattamente le stesse cose che avvennero in Canada, che avvennero negli Stati Uniti, che avvennero in Brasile, che avvennero in Australia, che avvennero in Irlanda e che avvennero in Francia. In pratica il condizionamento educazionale dei cattolici, la manipolazione mentale che i cattolici mettono in atto sui bambini, fa sì che da adulti pensano al prete cattolico in maniera diversa da ciò che il prete cattolico è. Cioè li impedisce di vedere la realtà oggettiva della situazione nella quale noi stiamo vivendo. Pertanto abbiamo dei poliziotti che sono mentalmente modificati. Sono plasmati mentalmente a non vedere l'orrore nelle azioni di vescovi, nell'azione del prete. Anziché essere educati a guardare quella che è la legge sociale, a guardare quella che è la legge costituzionale. Cioè abbiamo delle persone psicologicamente inadeguate ad affrontare le contraddizioni della società. Questo non significa che non fanno il loro dovere, o non cercano di fare il loro dovere. L'ho già detto questo. Cioè non è che il poliziotto non fa il suo dovere o il magistrato non fa il suo dovere. E loro lo fanno anche. Però ciò che manca in tutto questo è la visione a prioristica della situazione. Mi spiego meglio. Ogni prete cattolico stupra bambini. Perché stuprare bambini è la funzione del prete cattolico. Che poi lo faccia dal punto di vista psicologico. Soltanto perché li costringe in ginocchio a pregare o a ripetere come degli ossessi, delle formule. Che manifestano principi avversi alla Costituzione. Oppure li violenti sessualmente è una cosa abbastanza irrilevante. Chiaramente la legge punisce le due cose in maniera diversa. O meglio una cosa non la punisce e la tollera. Cioè in pratica attraverso il concordato viene meno l'accusa di manipolazione mentale nei confronti del prete cattolico che costringe i bambini in ginocchio a pregare. Cioè il concordato gli permette di fare questo. Cioè nel senso che è comunque un reato ma viene meno l'attività penale. Proprio per questione concordataria. Ciò che invece è la violenza fisica è punita. E punita anche con una certa severità. Ma il problema è che non avvengono indagini a prioristiche. Cioè poliziotti e magistrati non mettono in atto tutte quelle azioni che devono prevenire il reato. Cioè mentre si mettono in atto delle azioni per prevenire l'azione degli zingari si mettono in atto delle azioni, non si mettono in atto delle azioni per prevenire l'attività dei preti cattolici. Cioè questo che è una violenza. Una violenza sociale inaudita. Stuprare bambini è un'arma di distruzione di massa. Questo deve entrare nella testa delle persone. E sono armi di distruzione di massa che vengono a distruggere, a saccheggiare il nostro sistema sociale non solo nell'attimo presente, ma anche per il futuro. Perché si viene a produrre delle persone che sono socialmente inadeguate, psicologicamente disturbate ad affrontare la loro situazione di vita. Ed è un'arma di distruzione di massa. Basterebbe solo questo per far bombardare il Vaticano come è stato bombardato l'Iraq. Però tutto sommato, chi ce ne frega a noi? Questi danni avverranno fra vent'anni, fra quindici anni. Probabilmente molti di noi fra quindici anni saremo morti. Che ci interessa? Se la società civile dovrà pagare un prezzo. In fondo a noi non ci riguarda. Abbiamo cose più importanti da fare. E con questo accettiamo la distruzione della nostra società. Giorno dopo giorno. È questo che ci divide, che ci differenzia noi pagani politeisti dai laici o dagli anticlaricali o dagli atei. Cioè noi viviamo le tensioni della vita sociale perché noi siamo legati alla vita sociale. Noi siamo legati a tutto ciò che si muove nella nostra società. Ma non solo nello spazio, ma specialmente nel tempo, nei mutamenti, nelle trasformazioni. Per questo noi siamo persone religiose. E chi fa ciò che facciamo noi, cioè chi è attento alle trasformazioni della società in cui vive, è una persona religiosa. Ricordatevi questo. Ed è purtroppo una persona religiosa anche a chi la danneggia, a chi la distrugge la società. Fate la religione, il cristianesimo, perché distrugge la società civile. La nienta, la saccheggia. Non solo con le mezzogne, se è vero o non è vero, che quello si chiamava Gesù o si chiamava Giovanni di Gamala. Ma ho mia ordina di stuprare i bambini. L'imitazione a Cristi è quella di stuprare i bambini. Che me frega a me se si chiamasse Gesù, Giovanni di Gamala, o è stato scritto da Giuseppe Flavio. Questo ordine di saccheggiare il sistema sociale, signori. Capite bene quanto è grave questo. E' giusto che gli storici facciano le loro analisi, le loro ricerche. Ma per piacere, la vita sociale, per noi pagani politeisti, è più importante, è fondamentale. Bene, siamo arrivati ormai alle ore 16. Andiamo un po' avanti. Con il discorso, cambiamo un attimo il discorso, cambiamo tutto quanto, dai. Siamo anche un po' di notizie stampa in giro. Comunque, ci sono i soliti arresti di preti, i soliti indagini, i soliti tentativi del Vaticano di mettere le mani in sua società civile. Ci sono sempre le solite cose sulla teoria di Darwin, sull'evoluzione, una cosa che i cristiani odiano nel modo più assoluto, perché dimostra la falsità della realtà del suo Dio. Ci sono una serie di notizie anche dal punto di vista sociale, nuove scoperte o diffusione di stampa, ci sono le solite cose. Le lasciamo là, perché andiamo avanti un po' con il discorso sulla divinazione. Perché voglio parlare di divinazione? Perché troppo spesso in internet vedo gruppi religiosi, specialmente i Vicca, che continuano a parlare di divinazione, che però si trasferisce quasi esclusivamente in fare tarocchi, in fare rune, o comunque cercare di prevedere in questo modo il futuro. E lo vediamo questo senza capire esattamente che cosa sia la divinazione. E allora io ho fatto un documento che ho messo in internet. A proposito di internet, questo mese sono state aperte qualcosa come 17.000 pagine. In pratica, io in questo mese, in pratica io in questo mese, sulle mie pagine in internet, ci sono state 17.000 aperture. Allora, i siti dove ho scaricato ciò che ho letto? Allora, i siti dove ho scaricato ciò che ho letto? Vado su Google, scrivo la parola sacerdoti, pedofilia, chiedo news e mi danno le notizie. Molto semplice. Cioè non esiste una cosa segreta. Esistono tutta una serie di giornali, oggi come oggi. È arrivato un fax, sto rispondendo a un fax che mi è arrivato a firma Italia Andrea. Esistono tutta una serie di giornali che sono giornali in internet, giornali in web. Alcuni naturalmente si fanno pagare e altri non si fanno pagare. Non si fanno pagare specialmente i giornali che diffondono un certo tipo di notizie che sono abbastanza importanti e che non trovate quasi mai sui giornali normali. Per esempio, la notizia del prete di Arezzo, io qui ho il ritaglio, vediamo un attimo se lo trovo subito, il ritaglio del gazzettino, vediamo un attimo, eccolo qua, no, il ritaglio sul gazzettino, aspetta un attimo, è così piccolo che non riesco neanche a individuarlo in mezzo in mezzo agli articoli che ho. Vediamo un attimino. Era così piccolo sul gazzettino che praticamente non ce l'ho. Ho la notizia comunque del giornale La Repubblica e dal giornale La Nuova Venezia. L'ho il mattino di Padova, adesso non mi ricordo fra i due quelli che l'ho tagliato. Però sul gazzettino si trattava di un trafiletto di quattro righe, cinque, che abbia. Praticamente il gazzettino ha letteralmente silenziato la notizia. C'è sulla Repubblica un servizio abbastanza buono e sul mattino di Padova c'è un altro servizio di tre colonne per circa cinque centimetri. Mentre invece su tutte le altre è stato letteralmente silenziato. In compenso il gazzettino fa un titolo a mezza pagina rispetto a un omicidio avvenuto a Biella satanismo sullo sfondo del delitto. Cioè le solite cazzate che fa il gazzettino per lanciare i suoi giornali. Cioè lanciare questo allarme satanista gli piace moltissimo. Sì poi ci sono altre perlazioni in giro. Comunque, torno a ripetere, basta andare su Google e inserire la parola preti, sacerdoti e pedofilia e vengono fuori quelle che sono le notizie attuali. Non serve una grande ricerca. Vi assicuro che è pieno ed è piena le notizie quotidiane. Cioè ogni giorno ogni giorno c'è qualcosa. Fate conto che quella che io ho scaricato oggi quella che io vi ho letto vediamo un attimino se no solo la data di scaricamento no è del 27 novembre 2005 ed è tratta da Il Messaggero naturalmente questo è un giornale che l'ha presa dal Messaggero per cui il 27 novembre è fatto un po' buono insomma i quattro giorni fa la notizia cioè questo articolo di quattro giorni fa ma anche a pedofilia lettera appello al Papa di vittime di abusi sessuali che è stata presa da un altro giornale sempre in internet è una notizia che viene ripresa dalla Fonte APC questo è un numero non lo so pensavo che fosse di un'altra agenzia si parla praticamente di questioni della pedofilia in Irlanda vabbè niente passiamo un attimino a questo discorso qua allora sulla divinazione che vi ho cominciato cioè praticamente le persone non sanno che cos'è la divinazione cioè scambiano praticamente la divinazione per quella che è la superstizione e allora io ho preso un attimino la divinazione da Cicerone e ho fatto questa pagina web che la trovate sempre sul sito www.federazionepagana.it la cercate dentro e sta diventando una miniera adesso devo buttarci dentro un'altra due o tre cento pagine staremo a vedere cosa diventa quel sito divinazione nelle antiche definizioni da dizionario nelle antiche religioni antiche primitive l'arte di prevedere il futuro attraverso l'interpretazione di eventi ritenuti segni dati dagli dèi questo ci dice il dizionario che cosa è dunque la divinazione è la capacità di un soggetto di interpretare i fenomeni al di là della normale significazione che ne dà la ragione i fenomeni possono essere interpretati sia all'interno dello spazio oggetti che si manifestano nel presente o nei confronti dei quali si mettono in essere strategie soggettive per giungere all'armonia o nei confronti del tempo oggetti che si manifestano nel presente e che inducono a delle trasformazioni dei mutamenti nei confronti dei quali si agisce al fine di ottenere dei mutamenti a sé favorevoli il mondo in cui viviamo agisce e il suo agire si riversa anche nei nostri confronti il mondo in cui viviamo mette in essere delle strategie di mutamento che ci costringono ad adattarci la nostra educazione ci costringe ad affrontare solo i fenomeni che rientrano nella nostra ragione ma il mondo è in sé infinitamente più grande e spesso noi subiamo i fenomeni ultimi di processi di trasformazione che sono iniziati fuori dalla portata della nostra ragione in un tempo diverso o in uno spazio diverso in situazioni che la nostra ragione non è in grado di analizzare o di intervenire ad esempio il disboscamento della foresta amazonica porta all'inaridimento del Sud America che implica un innalzamento della temperatura del Golfo del Messico che produce un numero maggiore di uragani che si abbattono sugli USA il tizio che si vede spazzata via la casa in Florida non è in grado di mettere in relazione quella distruzione con l'avidità dell'accaparrarsi il legname dell'industria USA e la distruzione della foresta amazonica sull'intero pianeta la vita è come un insieme di perle in un vaso di vetro S in cui la vibrazione di una perla si trasmette a tutte le altre e il veicolo di trasmissione sono i mattoni della vita gli dei che presenti in ogni perla mettono in fibrillazione ogni se stesso in ogni perla è piuttosto complesso sapere perché quella perla vibri ma è più facile sapere che cosa implichi il suo vibrare nell'insieme in cui siamo immersi lo stesso nostro divenuto come individui singoli di questa singola specie della natura è dovuto ad un infinito numero di condizioni e di strategie d'esistenza fuori del nostro controllo fuori della nostra ragione a noi stessi e noi stessi siamo il fenomeno manifestato da quelle strategie o uno dei fenomeni la conoscenza si può intendere come la capacità dell'individuo di far vibrare le proprie emozioni in relazione a quanto giunge dal mondo in cui vive quando quanto ci giunge dal mondo fa vibrare le nostre emozioni coinvolgendoci siamo su un sentiero di conoscenza il sapere della ragione si ha quando quanto ci giunge dal mondo è un'informazione che si può inserire o meno nella nostra ragione qualora la nostra ragione abbia degli interessi in relazione a quanto giunge per esempio se un archeologo scopre una pietra scheggiata in un certo modo databile 200 scusate databile 200 mila anni fa è in grado di fare tutta una serie di congetture quelle congetture sulle quali si innesta la ricerca dilatano il sapere della ragione la non conoscenza sia nella manifestazione di indifferenza soggettiva degli individui davanti ai fenomeni provenienti dal mondo questi non toccano né le loro emozioni concorrono alla formazione della loro conoscenza né la loro ragione concorrono alla formazione del loro sapere scusate un attimo solo allora scusate un attimo questa interruzione perché il problema da risolvere nella divinazione è complesso e coinvolge uno quanti sono i fenomeni che giungono dal mondo e che noi siamo in grado di comprendere considerare e valutare due quanti di questi fenomeni che giungono dal mondo vengono valutati attraverso la nostra ragione e quanti vengono valutati attraverso la parte profonda e antica del nostro cervello del nostro percepire tre quando questi fenomeni giungono sia che noi li consideriamo o non li consideriamo quali modificazioni inducono nell'oggettività in cui viviamo quattro quando questi fenomeni giungono quali trasformazioni mettono in moto nell'oggettività in cui viviamo cinque quando l'oggettività in cui viviamo si adatta trasformandosi ai nostri fenomeni sia in termini spaziali sia in termini di strategia d'esistenza quali strumenti e trasformazioni io devo mettere in atto il soggetto che pratica la divinazione è un soggetto attivo nell'oggettività nella quale vive le sue azioni sono fenomeni che introducendosi nell'oggettività la costringono a modificarsi se io agendo manifesto dei fenomeni che inducono delle trasformazioni nell'oggettività devo necessariamente devo necessariamente sapere quali saranno le trasformazioni che induco in quanto di quelle trasformazioni io ne conservo la responsabilità soggettiva ho la responsabilità per ciò che avrei potuto fare e non ho fatto la divinazione diventa arte del superamento della mera forma della ragione per cogliere il movimento profondo degli oggetti del mondo attraverso una continua modificazione soggettiva al fine di penetrare meglio la realtà nella quale si vive inoltre il soggetto deve sapere che non vive la separazione fra soggetto ed oggetti ma vive all'interno di un crogiolo dinamico di soggetti che progettano nei suoi confronti e nei confronti di ognuno di loro dove i fenomeni che si presentano sono il risultato di strutture operative dinamiche quali prodotto di un numero infinito di intelligenze che costruiscono il mondo che ci circonda non entrerò nella divinazione quello che a me interessa mettere in rilievo è che esistono due percorsi per praticare la divinazione uno è il percorso religioso e l'altro è il percorso superstizioso il percorso religioso della divinazione innanzitutto cominciamo a parlare dell'oggetto della divinazione il presagio cito dalla divinazione di Cicerone né l'uso avrebbe consacrato a caso quella parola presagire se ad essa non corrispondesse nessuna realtà me lo presagiva il cuore uscendo di casa che sarei venuto inutilmente sagire infatti significa aver buon fiuto donde si chiama sagare le vecchie fattucchiere perché pretendono di saper molto e sagaci sono dei ticani perciò chi ha la sensazione sagit di qualche cosa prima che accada si dice che presagisce ossia sente in anticipo il futuro dalla divinazione di Cicerone libro primo paragrafo 65 il presagire è quanto emerge dall'individuo al di fuori della ragione il presagio è la forma che nella ragione assume l'intuizione l'intuizione si forma in ambiti fisico psichici dell'individuo al di fuori del controllo descrittivo della sua ragione si forma nella parte antica del cervello elaborando fenomeni diversi o in diverso modo dalla ragione che provengono dal mondo esterno questo diverso modo di elaborazione si trasferisce nella struttura emozionale si presenta spesso la ragione sotto forma di inadeguatezza psicologica fastidio gioia euforia che creano nella ragione stati psicologici di aspettativa o inadeguatezza rispetto ai soggetti che l'individuo sta mettendo rispetto ai progetti che l'individuo sta mettendo in atto in quel momento questi stati psico emotivi vengono giustificati dalla ragione che vi attribuisce un significato per quanto la ragione riesce ad immaginare qualche volta la ragione riesce a far coincidere la sensazione col significato dell'intuizione nella maggior parte dei casi nella stragrande maggioranza degli individui la ragione ha creato una separazione netta fra la parte interna e antica del cervello e la sua descrizione del mondo questa separazione che è sia di natura fisica che psichica ed emozionale impedisce all'intuizione dell'individuo di interferire nella sua azione la separazione operata dalla ragione fra mondo descritto e mondo reale è necessaria al fine di delimitare il mondo in cui il soggetto della natura l'essere umano nel nostro caso opera e si trasforma l'immenso lo travolgerebbe tuttavia l'immenso esiste e comunque si presenta al soggetto con un infinito numero di fenomeni che per il soggetto diventano oggetti in se stessi non conoscendone nell'origine né i mutamenti che hanno attraversato negli effetti che produrranno sia nel suo mondo che nell'infinito di cui sono manifestazione uno dei sistemi che la ragione usa per separare la percezione dell'individuo dall'immenso è quello di proiettare sui fenomeni esterni l'immaginazione della ragione la ragione prende il fenomeno esterno ad essa e lo riveste della sua immaginazione la ragione immagina il significato della sensazione che le arriva immagina la forma della percezione visiva attribuisce un significato preciso e limitato all'emozione che sta travolgendo l'individuo la ragione è una specie di guardiano della sanità mentale dell'individuo solo che come tutti i guardiani diventa un tiranno atroce qualora l'individuo non impari a disciplinarla e a metterla al proprio servizio il proprio servizio significa costringere la propria ragione a lasciar passare l'intuizione e a diventare duttile e attenta all'intuizione che emerge dentro di noi i percorsi di stragonaria portano a questa condizione attraverso l'autodisciplina che da un lato si impone alla ragione e dall'altro si impone alle nostre emozioni nella relazione empatica che costruiscono col mondo circostante ci sono persone che hanno facilità nel far emergere la propria intuizione e sono ricche di intuizioni altre che hanno difficoltà sia a far emergere l'intuizione sia a bloccare l'immaginazione della propria ragione sulle proprie intuizioni e sensazioni ci sono delle persone che vivono di intuizioni e vanno fuori di testa e ci sono delle persone che negano assolutamente l'inquiizione ma questo è un altro discorso cito da Cicerone l'altra forma di divinazione l'ho già detta è quella naturale essa con sottili ragionamenti riguardanti la scienza della natura va riferita all'essenza degli dèi della quale secondo i pensatori più dotti e sapienti noi abbiamo tratto le nostre anime come se le avessimo aspirate o bevute e poiché il tutto è compenetrato e riempito di spirito eterno e di intelligenza divina avviene necessariamente che le anime umane subiscano l'effetto della loro affinità con le anime divine ma nello stato di veglia le nostre anime devono occuparsi delle necessità della vita e quindi si disgiungono dalla comunanza con la divinità impedite come sono dai legami corporei vi ricordo che Cicerone viene fatto passare nei libri testi come uno scettico in realtà Cicerone non è uno scettico è semplicemente uno stoico che nega lo stoicismo esattamente come oggi abbiamo gli atei che sono dei cristiani che negano Dio ma i principi sono quelli che manifestano vado avanti la sensazione emozionale di far parte di un insieme è una condizione reale che viene osteggiata dalla ragione che separa l'individuo dalla propria percezione emozionale ma stessa percezione emozionale separa il soggetto l'individuo dall'insieme dei soggetti che formano il mondo in cui vive legandolo non per ciò che l'individuo è parte di un ipotetico tutto ma all'insieme delle azioni che manifesta il mondo in cui egli è dal punto di vista emozionale l'individuo è separato dal mondo in cui vive ma non è separato dalle emozioni del mondo i termini azioni e emozione stanno a significare intelligenza scopo attività progettuale di tutti i soggetti che compongono il mondo in cui il soggetto vive si hanno livelli diversi di integrazione e separazione dei soggetti col mondo in cui vivono l'individuo si separa dal mondo in quanto coscienza di sé cioè si riconosce quale soggetto diverso dal mondo circostante ma è legato e comunica col mondo attraverso le sue emozioni le emozioni e le azioni sono quanto significano il soggetto nei confronti del mondo circostante la ragione come capacità di descrivere forma e quantità si sostituisce alla comunicazione emozionale la ragione tenta di dare una forma e quantità agli oggetti che formano il mondo e imponendosi all'individuo relega la comunicazione emozionale a livello del subconscio l'eguario è che per la ragione i soggetti del mondo diventano oggetti e come tali muti da qui nascono le fantasie illusorie della ragione di un tutto consapevole progettuale di un dio padrone di un destino da decifrare da qui nasce la superstizione quando la ragione tace l'intuizione emerge e quando la ragione lo intuisce lo trasforma in presagio ciò avviene quando si è emozionalmente impegnati sotto sforzo quando la ragione tace non proietta le sue illusioni sul mondo come nel sogno solo che quanto si percepisce può essere indifferentemente intuizione o illusione visione o allucinazione comunicazioni con soggetti del mondo o manifestazione di un desiderio struggente ed oprimente spesso sintrome da onnipotenza la stregoneria va alla ricerca per usare al meglio la propria intuizione ma la stregoneria è un modo per combattere nel mondo e chi combatte cerca le armi migliori possibili per combattere al meglio cito da Cicerone ora però dichiarerò solennemente che io non do credito ai volgari estrattori di sorti né a quelli che fanno gli indovini per trarne vantaggio né alle evocazioni delle anime dei morti alle quali ricorreva il tuo amico Appio non stimo un bel nulla agli auguri Marsi negli aruspici di strada negli astrologi che fan quattrini presso il circo nei profeti di Iside nei ciarlatani interpreti di sogni essi non sono individui per scienza ed esperienza ma sono vati superstiziosi impudenti spacciatori di frottule incapaci o pazzi o schiavi del bisogno gente che non sa andare per il proprio sentieruccio e pretenderebbe di indicare la storia al prossimo da quelli a cui promettono ricchezze chiedono un soldo da quelle ricchezze prendono da sé quel soldo di ricompensa e ci diano come dovuto tutto il resto dalla divinazione di Cicerone libro primo paragrafo 132 ed è questo che fa la ragione le ragioni povere anziché migliorare e dilatare la propria capacità di descrivere il mondo ad esempio sviluppando la scienza e la conoscenza dei meccanismi del mondo della forma e della quantità costringono il mondo ad assumere la forma della loro immaginazione e su questa immaginazione proietrano le tensioni emozionali dell'individuo destino dio padrone karma reincarnazione eccetera 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 imponendo delle risposte alle sensazioni emozionali dell'individuo su questo meccanismo si innesta l'attività di manipolazione mentale delle religioni rivelate i ciarlatani non sono solo quelli elencati da cicerone che abbondano anche al giorno d'oggi ma soprattutto i preti cattolici cristiani imam musulmani rabbini ebrei che pretendono di manipolare le persone al fine di imporre loro l'immaginazione a quale costringere i loro bisogni emotivi dopo di che i costoro che affermano che cosa vuole il loro Dio fanno anche guerre dal momento che sanno che il loro Dio vuole quelle guerre Dio lo vuole si affidano ai tarocchi agli astrologi alle sedute spiritiche alla cabala e a quant'altro per conoscere il disegno del loro Dio padrone così una ragione incapace di farsi venere e di affascinare le emozioni dei soggetti del mondo in cui vive preferisce andare dalla maga di turno o dal prete cattolico per farsi fare un legamento d'amore e dopo che la maga ha agito o il prete cattolico ha agito questa persona si sente più disponibile sessualmente con la persona desiderata e questa vedendo una maggiore disponibilità le si avvicina e allora quella persona dirà vedete che la maga del legamento d'amore funziona vedete che la preghiera del prete ha funzionato e così si avanza di inganno in inganno e la magia dell'inquizione rimane legata nella parte più antica del nostro cervello c'è una sensazione distruggente e di rimpianto che sta a ricordarci cosa che sta a ricordarci cosa saremmo potuto essere e che cosa di diverso nella nostra esistenza avremmo potuto fare se solo avessimo avuto il coraggio di scegliere pescando dal nostro cuore e questo pezzo lo trovate e questo pezzo lo trovate tutto quanto su internet al sito www.federazionepagana.it naturalmente ne trovate molti altri pezzi perché visto l'ora finita anzi ho anche finito il tempo va bene facciamo una telefonata forse una forse neanche una di questa trasmissione perché purtroppo pronto pronto ciao Dan Paolo ciao Dan ciao mi è piaciuto moltissimo quello che hai detto qui ultimamente specialmente quelle domande che hai fatto che hai posto domande che vanno rivolte allo spazio se non erro o comunque al circostante no? beh e allora io invoco la razionalità umana e così detto anche logica e che mi peschi fuori razionalmente cosa hai detto tu come come è possibile eh questo è un altro discorso ecco mi chiedo fa bene e quindi lo stuprare cervelli da duemila anni ma stuprare cervelli è peggio ancora che andare con l'immaginazione nello spazio e pescare certo certo perché è tremendo veramente sottoporre a una macellazione la dico io per duemila anni perché io dico una semplice cosa velocissimo mi devo buttare giù c'è Paolo dimmi il mondo la terra ha 4 miliardi di anni circa le religioni rivelate quanti anni hanno 2500 basta ti saluto e ti grazie ciao ciao niente devo chiudere qui la trasmissione magia e stragonaria e paganesimo sta arrivando al vice chiaramente io vi do appuntamento per le ore 19 vabbè vorrei dire che alle ore 19 farò più telefonate va bene portate pazienza ci vediamo stasera alle ore 19 fra le ore 19 alle 20 ciao a tutti e a stasera ciao